Salve a tutti ragazzi bentornati qui a Mattina Mercati, oggi flash, il video si registra o non si registra quindi sarà la terza volta che registro questo video, vediamo se questa sarà la volta buona comunque vado un pochettino a razzo e allora Bitcoin, nella serata di ieri è partito veramente a razzo c'è stata un'iniezione probabilmente di liquidità veramente impressionante sono scattati degli ordini molto interessanti sicuramente candelozzo qui nella barra dei volumi ovviamente molto pronunciato che ha portato quindi alla creazione ovviamente di una candela all'interno del grafico ovviamente molto pronunciata questa candela arriva in concomitanza con il breakout della neckline di questo testespalle e riporta i prezzi sostanzialmente su quello che era il massimo del precedente doppio massimo quindi facendo una ricostruzione rapida e dall'andamento del prezzo qui avevamo un movimento discendente il prezzo durante il ritracciamento disegna questo doppio massimo dopodiché scende spalla sinistra, testa, spalla destra, rottura della neckline e il prezzo si riavvicina a lavorare su quello che era il minimo relativo di questo doppio massimo quindi possiamo evidenziare questa zona come zona sicuramente molto interessante assolutamente poi vediamo doppio massimo che si forma ovviamente in divergenza vediamo la spalla sinistra e la testa di questo testespalle che si formano anch'essi in divergenza quindi molte conferme e ulteriore fatto interessante è sicuramente il fatto che appunto la proiezione dal minimo cioè diciamo dalla testa alla neckline come target del testespalle proiettato quindi sul breakout sulla rottura come vedete riporta i prezzi su quello che era appunto la precedente resistenza del doppio massimo il che sicuramente va a spostare l'attenzione su quello che era prima in livello interessante era appunto il livello dei 6.800 dollari cioè la neckline del testespalle ora il nuovo livello interessante diventano sostanzialmente i 7.800 dollari andiamo a scaglioni di mille da 6.800 a 7.800 il prezzo ha già percorso più della metà della distanza che separa appunto i 6.800 dai 7.800 ora un minimo di ritracciamento veramente vorrei vederlo perché altrimenti è sostanzialmente una salita verticale che non è mai un buon segno nei mercati e andando a tracciare quindi fibonacci da dove è partito questo impulso a dove è arrivato adesso che comunque già ha presentato un minimo di stop di correzione e sta incominciando a disegnarla terrei quindi in considerazione il livello del 38.2 ovvero i 7.200 dollari e il livello dello 0.5 ovvero i 7.100 dollari il prezzo qui potrebbe trovare supporto per poi raggiungere i 7.800 sì il ritracciamento ovviamente potrebbe avvenire anche in maniera più profonda visto comunque l'esasperazione di questo impulso rialzista allora potremmo andarlo anche a aspettare sul 61.8 o addirittura il 77.8 che quasi praticamente coincide con un pullback sulla neckline per quanto riguarda il resto del mercato i movimenti sono veramente più o meno uguali in tutti abbiamo rotto le resistenze chiave che avevamo tracciato nelle settimane precedenti quindi effettivamente questa si è confermata la settimana del verdetto ci eravamo avvicinati alle resistenze quindi dicevamo qualcosa dovrà succedere ecco è arrivata un'iniezione forse un po' troppo repentina però è arrivata e quindi le resistenze perlomeno a quei livelli sono stati rotti cosa sicuramente a tenere in considerazione è il fattore dei volumi i volumi sono stati veramente alti nel momento del breakout ma poi non hanno effettivamente sostenuto il prezzo e c'è stata tutta la sessione asiatica di questa notte e ormai siamo oltre mezzogiorno quindi la sessione europea siamo già a metà nonostante tutti i volumi sono comunque molto bassi concludendo quindi se proprio dovessi dire cosa vorrei vedere sarebbe quindi un arrivo sul 38.2 o anche lo 0.5 e poi una spinta finale su quella che a questo punto ha la resistenza chiave e poi vedremo effettivamente cosa vorrà fare il prezzo anche perché come vediamo questo movimento qui dove è andata a formare diciamo questa testa e spalle con questo doppio minimo dalla quale poi è partito questo impulso a rialzo molto esasperato è molto simile a ciò che era già successo in precedenza se andiamo un po' a restringere il grafico forse riusciamo a farci listare tutti e due cancello tutto così si vede meglio è un pochettino stretto ma dovremmo riuscirci come vedete qui alla fine anche precedentemente aveva creato una zona di supporto molto importante sia qui come l'ha creata anche qui ed è seguito poi un'esplosione a rialzo molto repentina dalla quale poi piano piano il prezzo è riuscito comunque ad uscire continuare a portarsi a rialzo dalla quale però poi è tornato nuovamente a rompere addirittura i precedenti minimi è andato quindi a toccare quelli che sono i minimi assoluti di questo movimento ribassista che ci portiamo dietro da gennaio quindi anche qui sostanzialmente ci ritroviamo in una situazione molto simile per cui sicuramente per il momento restiamo sintonizzati su questi 7800 dollari e come è possibile appunto resistenza chiave del nuovo impulso rialzista che si è appena formato vi aspetto quindi questa sera per le news con il TG Tripto ovviamente a domani sperando che non ci siano ancora problemi tra YouTube e registratori software e che va tutto bene domani nuovamente analisi tecnica e notizie ciao ragazzi